Un attimo! E se vieni da lì, mi muore da me, mi muore! Oh bro, se si avvicinano, mi lo dici, mi fai un cenno, mi dà! No, di te non mi fido su queste cose! Ah sì, perché lì c'è caldo, c'è il motore! Non è che si vuole inserare nel volum vetri questo qua!